scusate il ritardo siamo contenti che ci siate tutti grazie per essere venuti da ogni parte d'italia per il nostro matrimonio che non si farà più sei partita benissimo devo dire e non ci sposiamo perché siamo molto innamorati e molto felici e questa è la nostra unica certezza non ci sembrava il caso insomma di essere così no categorici di di ufficializzare di giurare tante cose importanti per l'eternità perché fondamentalmente stiamo solo cominciando e niente vorremmo solo tenerci questa felicità perché poi uno se la perde e puf sparisce spiegato viene male te l'avevo detto io insomma quelli in prima fila mi stanno facendo un po' cagare sotto alcuni di voi saranno arrabbiati e noi insomma non vogliamo fare le cose così ufficializzare no ci sembra un po troppo troppo impegnativo ecco comunque anche se non ci sposiamo più vogliamo festeggiare lo stesso vogliamo insomma abbiamo sarebbe uno spreco non farlo siete venuti qui tutti tutti tutta tutta Italia per 230 persone quindi sarebbe anche uno spreco alimentare visto che sono stati ordinati ben sei tonnellate di pesce a spada alla scilla no in fin dei conti siete venuti qui per festeggiare insomma per celebrare la nostra felicità e quindi più o meno la stessa cosa no non cambia molto se avete voglia di festeggiare con noi siete ancora tutti invitati alla cena grazie